quando avrai bisogno di una mano per arrivare al test al massimo della tua preparazione ricorda che wow è a tua disposizione abbiamo messo in campo tutto ciò che avevamo per ricreare il percorso online di preparazione più efficace in italia siamo l'unica scuola virtuale esistente pieni di studio personalizzati amici e docenti a cui chiedere supporto senza vergogna e centinaia di studenti con cui confrontarti e confortarti nel mese più caldo dell'anno scoprire metodi di studio e capacità che non pensavi di avere incontrando i tuoi futuri colleghi di università imparando a controllare la tensione gestire il tempo apprendendo molto più velocemente di quanto immaginassi non è un caso se il 70,9 per cento dei nostri studenti supera il test siamo esperti del test a missione perché ciascuno di noi ha già vissuto quello che ti aspetta e soprattutto che spesso ti fa troppa paura iscriviti ora a uno dei nostri tre percorsi personalizzati dalla più grande summer school online per la preparazione testi accesso per la preparazione testi accesso